Buonasera a tutti. Scipioni, Radio Radio. Inziamo. Buonasera, mister. Ho sentito anche la sua intervista fatta prima su Sky, dove, e questo le voglio chiedere, perché una Roma che deve battere il Parma, lei ha detto una partita fondamentale, la vittoria, c'era solo questo risultato, è partita così male? Cioè più volte ha questo approccio alla partita così lento? Ecco, lei ha parlato di lentezza, una squadra che parte, che deve battere il Parma, chiudere la partita, mentalmente parte così lenta in campo. Da che cosa dipende? Si è fatto qualche domanda. Ma più che male parliamo di ritmo lento, la cosa che abbiamo tanto migliorato nel secondo tempo, ma è vero che all'inizio della partita, nel primo tempo, abbiamo avuto un possesso pala troppo lento e un paleggio molto troppo lento per mettere più in difficoltà questa squadra di Parma, che ha avuto tanto merito, visto la sua classifica. Ma non c'è niente da dire che migliorare questa cosa subito nella prossima gara, perché anche noi non vediamo l'ora di vincere all'Olimpico, che fa un po' troppo tempo che non è accaduto questa cosa. Gian Piero Diaria Salve, volevo chiedere, la stagione non sta andando benissimo, se lei crede di aver sbagliato in qualcosa, magari a livello di motivazione, tattico, nell'arco della stagione? Nessuno fa le cose perfettamente, ma bisogna solo concentrarsi sul futuro, perché sul passato non possiamo cambiare nulla. e oggi non c'è nessun alibi per noi per dire che non abbiamo vinto, anche se ci sono tanti giocatori fuori, ma con questa squadra, con questi giocatori che sono entrati, era possibile e più normale vincere la partita. E adesso, più che guardare indietro, bisogna guardare in avanti. guardare in avanti, è giovedì, prima per noi, dopo per i nostri tifosi, vogliamo vincere, perché fa un po' di tempo che all'Olimpico non l'abbiamo fatto. Ministro, buonasera. Buonasera. Vorrei chiedere, perché contro il Parma, ultimo in classifica, una squadra che è in grave difficoltà, non ha insistito sulla linea verde, non ha confermato la fiducia dei giovani che avevano fatto bene a Cagliari, Paredes e Verde, e invece lanciato dal primo minuto, Gervinio e Tumbià, arrivati forse stanchi, scarichi dalla Coppa d'Africa. Paredes è arrivato oggi con noi, perché era a Leto da ieri, ha fatto il cammino inverso Miran Pjanic, che era con noi in ritiro, e che è tornato a casa questa mattina. E sulla risposta, Daniele Verde ci ha portato entusiasmo quando è entrato, entusiasmo anche preso dell'ultima partita, perché adesso sa che può giocare il suo gioco e aiutare la Roma in campo. Ma l'entusiasmo lo pensavo anche dei due africani, perché hanno vinto la Coppa d'Africa e era possibile sul loro lancio di questa vittoria portare più cose oggi e alla fine era anche difficile per loro, per questo che non dobbiamo valutare Sedou Dumbià oggi, ha viaggiato a Mosca giovedì, a Roma venerdì, ha fatto delle esame ieri per avere il diritto di giocare, ma era senza il capitano, era l'unico giocatore d'area e d'esperienza che avevo. Le scelte sono sempre facili da fare una volta la partita giocata. Possiamo pensare che su un 0-0 come oggi, con all'inizio Antonio Sanabria e Daniele Verde, la vostra domanda era perché gli africani non hanno giocato da ridizio. Certo, RDS. Buonasera. Buonasera. Premesso che certi giocatori sono fondamentali, oggi ne mancavano quelli che creano il gioco, che illuminano, sono indispensabili, quindi questo magari ha determinato un po' di assenza di qualità. Ma chiedo io, un allenatore non deve creare anche un sistema di gioco che prescinda da certi giocatori, se lo confondiamo giocate e gioco. Qual è il gioco della Roma? Penso che abbiamo avuto abbastanza occasione per vincere oggi. Vuol dire che il gioco ha funzionato, almeno nel secondo tempo. Lo dico, non ci sono nessun alibi per questa sera, nessuna assenza dice che non dovevamo vincere. E allora dobbiamo mettersi di nuovo al lavoro, fare in modo di avere i giocatori al 100%, perché forse questa sera era anche così sul campo e abbiamo tante partite che non dobbiamo molare, dobbiamo essere positivi, anche se questa sera la delusione è veramente importante, importantissima. Maida, Corriere dello Sport. Buonasera, Mestri. Cosa può dire adesso ai tifosi che hanno contestato, fischiato alla fine della partita, al di là del fatto che sia legittimo o meno, un tifoso che paga può lamentarsi del rendimento della squadra, ma che messaggio può dare per rincorarli in questo momento? Un messaggio di buon senso. Siamo più forti con i nostri tifosi, ovviamente, lo sappiamo, e per rimanere con una grande fiducia, anche dopo un risultato veramente scarso oggi, bisogna essere uniti, non solo il club dentro, ma anche fuori. Non è che non abbiamo fatto nulla questa stagione, e soprattutto la stagione non si ferma oggi, in campionato, e c'è l'Europa League, facciamo in modo già di qualificarci, di prendere un'opzione per la qualificazione giovedì, e dopo ci saranno anche delle partite in campionato, dove dobbiamo mostrare più continuità, e soprattutto più efficacia davanti, perché per vincere, già mi sono espresso su questa cosa, bisogna buttarla dentro. Facciamo l'ultimo, Pugliese e Gazzetta. Buonasera. Io le volevo chiedere, a me, personalmente, l'IAIC mi era sembrato uno dei più vivi, insieme a me, Anna Ingolana, ecco, il motivo del suo cambio, se è stata una questione, abbiamo visto che aveva preso una botta, ecco, è stata una questione fisica, è una questione, una scelta tecnico-tattica, e poi, in questo momento, lei, Florenzi, lo vede più esterno-basso, esterno-alto? Nell'assenza di Maicon, l'abbiamo visto questa sera, a quasi tutto il pericolo, è arrivato da Flore, terzino-destro, non c'è niente altro da dire, che lui non solo lo fa, ma lo fa bene. E sull'altra cosa, c'è un po' di tutto, ma soprattutto perché, quando è entrato Daniele Verde, è uscito Daniele Rossi, siamo passati a un 4-2-3-1, ben chiaro, e sulle fasce avevo bisogno di giocatori, che possono saltare l'uomo, con rapidità, Gervinio e Daniele Verde, vuol dire che è uscito Adem, perché era trequartista a questo momento, e lo Paredes ha anche dimostrato, l'ultima partita, che lo può fare sul piano offensivo, e anche con la febbre, è entrato bene, veramente sì. Grazie a tutti, Buonasera.